Un decalogo per la creatività di Federico Faggin La creatività si manifesta come ispirazione L'idea creativa è una comunicazione del sé più vasto al nostro ego, che è percepita come ispirazione. L'ego è quella parte del sé più vasto che crede di essere il corpo fisico. L'ispirazione è un lampo intuitivo, che contiene l'essenza dell'idea creativa e la motivazione per capirla a fondo e per portarla a compimento. L'ego è quindi spronato all'azione che porterà alla realizzazione e alla condivisione dell'idea.